Buonasera, ho lavorato da 25 anni in Tagina, un po' più di 25, sono stato licenziato il 19 di dicembre e quindi mi sono segnato per le Naspi, ma siccome che per andare in pensione mi mancano ancora due anni e sei mesi, non so, forse se continuiamo così in Italia per andare in pensione ci vorrà la reincarnazione, per me la penso in questa maniera. Noi operai di Tagina siamo psicologicamente lavorati e anche fisicamente da questa trattativa, queste trattative che durano ormai da più di un anno senza aver nessun risultato, non sappiamo il perché, praticamente noi è tre mesi quasi che non prendiamo lo stipendio, non sappiamo come arrivare alla fin del mese, non sappiamo se avremo un futuro, noi chiediamo un futuro per l'azienda, vogliamo certezze, vogliamo chiarezze e niente, siamo così allo sbando per adesso e viviamo giornalmente con quest'ansia che ci logora tutti i giorni.